E' una specie di elogio della solitudine Si sa, non tutti se la possono permettere Non se la possono permettere i vecchi, non se la possono permettere i malati Non se la può permettere il politico Politico solitario, un politico fa tutto di solito Però, sostanzialmente, quando si può rimanere soli con se stessi Io credo che si riesca a non avere più facilmente il contatto con il circostante Il circostante non è fatto sul lato dei nostri simili Direi che è fatto di tutto l'universo Dalla foglia che spunta di notte in un campo fino alle stelle E ci si riesce ad accordare meglio con questo circostante Si riesce a pensare meglio ai propri problemi Credo addirittura che si riescono a trovare anche delle migliori soluzioni Non è che se debba fare gli emiti o gli anacoletti È che ho contattato attraverso la mia esperienza di vita Ed è stata una vita Mi sono reso conto che un uomo solo non mi ha mai fatto paura Invece l'uomo organizzato mi ha sempre fatto molta paura Ecco semplicemente questo Poi si potrebbe parlare lungo Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille